Ciao a tutti, sono Laura di ricetta.it Oggi prepariamo insieme la sbriciolata al tiramisù con un impasto a briciole a base di savoiardi, burro e caffè e una crema al mascarpone, uovo e caffè Il tutto cotto in forno a 170 gradi per circa 40 minuti Seguite le mie mani! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per una versione più leggera potete sostituire il mascarpone con ricotta o piladelfia Prima di togliere dallo stampo, la sbriciolata al tiramisù deve essere completamente fredda Grazie a tutti